Sono Filippo Simo, eccomi e come l'altra volta invece stavolta andiamo a giocare al Roblox Hotel Escape, mi piacciono le cose escape, lasciatemi i commenti se vi piacciono o no le cose escape così vedrò se farle di nuovo o no non cambia cos'è sto cosa? chi sei? il manager è fatto e ci ha vabbè non ci ho capito niente non me ne importa non cecato tantissimo ah un altro di sticosi non voglio sedermi un altro di sticosi yeee ah sono morto questa non la sapevo questo non lo sapevo ragazzi un attimo un attimo ok aspetta aspetta non mi sono il si quant'è c'è il si questo ci si sen si si ins si 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 che si è una volta alta è una volta è una volta è una volta è una volta non mi tentava qualcosa questo mi like questo mi like questo è х tego 60 ma che inizia Sì, mi senti! Non mi guarda la pace Quasi guarda il cuore da via Per un nuovo per di qua si doveva andare non pensavo spuntavo un tombino così a caso la porta è di qui il tombino c'è no 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 che pizza ok se ne chiude il coso no no perché si bagga tantissimo no vai ce l'ho fatto questo è che serve a morire si serve a morire non ve lo consumiamo non ve lo consente no non ve lo faccio tutto da capo si è aperta dopo 10 anni si quindi per di là non si va si va da qua ah sono di stiamo bagga tutto non me ne importa niente guarda lo so che ci sono roblox oggi bagga no sono morto vabbè almeno c'è il checkpoint mi chiedevi sta la faccia per un secondo anzi manca un secondo almeno c'è non ve lo tocca non ve lo tocca non ve lo tocca si vediamo se possiamo giocare ragazzi dite qui sotto se vi piace il top 5 vediamo non fate caso allo sfondo del telefono di mia sorella ah vero si gioca così questo scusate un intanto sono poco smemorato ma si bacca tutto oggi ma guarda basta che ti faccio questo non è tanto difficile non è difficile per gli occhi beh non era difficile oi poi ho lo tocca la famiglia questo sono lo so si vediamo vediamo che non ho le due prima e la seconda secondo no ne ho le due va bene no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non lo so. Penso che tra 2-3 minuti chiudereò il video. Quindi non me ne importa. Spacco tutto. Ciao ciao. Ah, mossa di Naruto. Ma no, in quel punto là ragazzi. L'ho preso in quel punto là per sbaglio. Come si toglie. No. Scusate se la sposto. Scusate. 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 Così. Scusate. Così. Così, un uovo dal di dietro. Così. Un uovo dal di dietro da un gallo. Che poi magicamente è diventata una gallina. Ah, ho capito, devo fare questo Un mar sottoterra Buon attimo è un nuovo stracchio che mi ha Ma sono molto più grande, è una specie di mancro Che ho il terreno, che ho fatto per me E' un attimo è un attimo Un attimo è un attimo E' un attimo è un attimo E' un attimo è un attimo E' un attimo è un attimo Nooo Nooo Non... Però ila stato è un attimo è un attimo un attimo quello che io mi ha E' un attimo 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 Acquista prodotti per la cura della pelle in modo semplice online su Notino, ora con sconti fino al 30%, Notino. Queste pubblicità stanno rovinando i giochi. Scusate se la spazio è vero, non posso farmi andare a prendere. Ah, così. Chi l'aveva capito? Beh, guarda la basca. Oh, che vuole. Ah, un bacchino nuovo. Mamma, questo lo so, è sui genio. Guarda, ma questo è un livello del 1.953.000. Vedete? È tutto quadratino. È impossibile. È tutto quadratino. Vedete? Ma rispetto a quello che avete visto là, non ci interessano. Acquista prodotti per la cura della pelle in modo semplice online su Notino, ora con sconti fino al 30%, Notino. Ragazzi, ditemi una cosa, nei commenti, secondo voi e me sono le pubblicità e me io, con le pubblicità però non paghiamo niente così, o dobbiamo pagare per togliere queste pubblicità? Perché non ho fastidio? Non lo so. Scusate, se lo sposto ancora, però dopo non riesco a togliere la pubblicità, quindi lo metto qua. Sì, va bene, sappiamo che poi mi diamo i 6 burbantelli. Scusate, se lo sposte. Scusate, se lo sposte. Scusate, se lo sposte. Scusate, se lo sposte perché mi aspetta, non riesco a cercare di me una visione. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.